Ciao a tutti, ci vuol poco per essere felici, basta inibire la ricaptazione della serotonina. Cosa significa questo? Significa che molte persone cercano la via chimica, diciamo, della felicità. E adesso ci sono tutti questi nuovi farmaci inibitori della ricaptazione della serotonina che sono molto usati, ma giustamente, per carità, nella psichiatria, che tendono a curare un po' di tutto, diciamo, dalla depressione all'ansia, disturbi ossessivi compulsivi. E il meccanismo di azione è quello di, essenzialmente, diciamo, far sì che nel cervello ci sia più serotonina in circolo, inibendo proprio la ricaptazione della serotonina, tra neuroni fondamentalmente. Ora, io non sono un esperto del settore, però mi sono un po' interessato di questi temi. Sicuramente, diciamo, questa classe di farmaci, rispetto a quelli precedenti, come tutto, diciamo, nella vita, hanno caratteristiche sicuramente più positive rispetto ai vecchi antidepressivi, credo meno effetti collaterali, tutta una serie di positività. Ma il principio, però, è quello della via chimica, della pastiglia, della felicità. È ovvio che, diciamo, una persona poi magari si sente meglio, ma di fatto, però, abbiamo la tendenza a non accettare ed elaborare la sofferenza, fondamentalmente. E questa è un po' una contraddizione nell'essere umano, perché siamo disposti magari a volere subito, diciamo, un qualcosa che mi elimina lo stato di sofferenza, anche se poi magari il conto da pagare nel tempo potrebbe essere un conto molto alto, come al viceversa delle persone che vivono in uno stato di benessere, fanno delle cose che gli piacciono, ma che a lungo termine potrebbero dar danni, e comunque, diciamo, restano paradossalmente centrati nel presente. Però questa centratura nel presente è solo virtuale, perché poi, in realtà, le preoccupazioni di fondo non sono tanto legate al momento presente, sono legate a quello che è successo nel passato, cioè risoffriamo per eventi capitati nel passato, che adesso non ci sono più, e presoffriamo per eventi che, ipotizziamo, possono accadere nel futuro, ma che di fatto non sono accaduti. E quindi non ci godiamo il momento presente. Utilizzare la via chimica, che per carità è utile in certi casi, eccetera, però è un po' come, se non è associato a un processo di crescita interiore, è un po' come avere un dente cariato, e anziché evitare, anziché curare il dente, diciamo, elimino il sintomo, elimino il dolore, ma non è che vada a eliminare la causa, diciamo, perché intanto dovrei curare il dente, prima cosa, ma poi eliminare anche la causa. Magari la causa potrebbe essere, che non so, che mangiato un po' zucchero, per fare un esempio, o che lavo male i denti, non lo so. Quindi, qualunque cosa essa sia, noi dobbiamo andare a ricercare la causa, perché il sintomo, tutto sommato, di fatto la sofferenza che noi viviamo, è comunque un messaggio. Un messaggio che la nostra mente, che il nostro cuore, che la nostra anima ci dà. E se noi lo inibiamo, è come uno che, che ne so, la macchina si accende una spia, che mi dice che c'è un problema, io risolvo la questione mettendo del nastro sopra la spia, in modo tale che non la vedo più. Certo, la spia non la vedo più, però non è che ho risolto il problema. E quindi, sì, sicuramente, nulla contro la via chimica, ma dobbiamo anche innescare un processo di crescita interiore. Un processo di crescita interiore che ci faccia rendere conto che noi possiamo uscire dalla sofferenza, come diceva ad esempio Buddha Shakyamuni. Possiamo uscire dalla sofferenza, però se eliminiamo le cause vere, le radici della sofferenza. Le radici della sofferenza sono fondamentalmente il nostro egoismo, cioè l'attaccamento, i veleni mentali, la rabbia, l'ancore, i risentimenti. È una non corretta visione della realtà, cioè credere che le cose devono andare come vogliamo noi, essere statiche in questo modo. Invece non è così. La realtà è in perenne e continua trasformazione. Il momento presente è in continua e perenne trasformazione. Questo dobbiamo accettarlo profondamente, perché fa parte delle regole del gioco. Se noi siamo nel sansara, siamo su questa altalena, dobbiamo, eliminando, diciamo così, i veleni mentali, saltare fuori dall'altalena e uscire. Quindi, scusate, è uno sternuto mancato, ma lo lascerò nel video perché comunque fa sempre folklore. Dicevo, dobbiamo cercare di uscire fuori da questo ciclo di sofferenze, eliminando le radici. Le radici sono veramente questi veleni mentali che abbiamo. Poi, per carità, ricaptiamo la serotonina, scegliamo anche la via chimica, se qualche medico ce la suggerisce. Però, il processo di crescita interiore consente un'eliminazione profonda, che tra l'altro non è soltanto collegata a questa vita, ma che ci portiamo di vita in vita. È un'impronta, è un qualcosa che dobbiamo percorrere, è un sentiero che ci libererà veramente per sempre dalla sofferenza. Bene, per questo video è tutto. Vi ricordo due cose. La prima è che, venerdì 3 marzo, ora 20.45 a Torino, educatore della provvedenza in corso 3013, terrò un corso su come coinvolgere, su come sviluppare autostima, sedurre sviluppando autostima. Chi fosse interessato, il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che, se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me, che potrai scegliere se fare dal vivo o se fare via video. È a breve l'estrazione, per cui iscriviti al canale. Ciao! Ciao!